Allora, ovviamente con il Ministro che ringrazio, questa mattina ci siamo sentiti e ovviamente abbiamo deciso di venire subito, in primo luogo per dire di nuovo grazie, essere vicini a tutti gli operatori, gli operatrici, i medici dello Spallanzani e come ha detto il Dottor Vaia che ringrazio attraverso loro vicino alla scienza, alla medicina e agli operatori della sanità italiana che con la loro dedizione e impegno hanno salvato milioni e milioni di esseri umani dalla morte, questo è ormai un dato oggettivo, scientifico e acquisito e questo è stato possibile per la passione che è stata messa sin dal primo giorno nella presa in carico di un virus sconosciuto e poi grazie alla dedizione che tantissime donne e uomini hanno messo nella campagna di vaccinazione che, ripeto, anche e soprattutto quella ha salvato milioni di esseri umani dalla morte. Quindi quanto è accaduto è un atto violento, ignobile e che va represso perché purtroppo in questi mesi, in queste settimane sono diversi gli atti di intolleranza, a volte di violenza, di aggressione che dentro una mobilitazione generale del paese però comunque si sono manifestati.